Da oggi, 10 gennaio, sono entrate ufficialmente in vigore in tutta Italia le nuove regole varate dal governo Draghi, arrivate per convincere chi ancora non si è sottoposto alla vaccinazione, definendo chiaramente le attività che possono essere svolte da un cittadino munito di Green Pass o di Super Green Pass. Un'ulteriore stretta è infatti scattata per quanto riguarda i trasporti pubblici, visto che per salire in autobus o in metro, sul treno o in aereo, da ora sarà possibile farlo solamente con il Green Pass rafforzato. È stato derogato di un mese invece l'obbligo di Super Green Pass per tutti gli studenti che percorrono il tratto casa-scuola con il classico trasporto scolastico, mentre chi salirà sui bus di linea o su qualsiasi altro mezzo pubblico sarà necessario il Super Pass. L'Anci, nelle ultime ore, ha infatti dato conferma che per gli alunni basterà il Green Pass base, quindi prima dose, guarigione o tampone con esito negativo. Da oggi sarà necessario disporre del Super Green Pass anche per fare sport di squadra, quindi allenamento e partita, accedere a palestre, piscine, musei, mostre, fiere, congressi, centri benessere, terme, sale giochi, centri scommesse e casino. Il ciclo vaccinale completo sarà obbligatorio anche per entrare in alberghi e strutture ricettive, feste di matrimonio o battesimi, servizi di ristorazione all'aperto e impianti scistici. Ma non è finita qui perché altre date indicano ulteriori ristringimenti. Dal 20 gennaio, infatti, per poter mettere piede dal parrucchiere, dal barbiere e nei centri estetici, sarà possibile solamente con il certificato verde base, mentre dal 1 febbraio dovranno mostrare il Green Pass tutti i clienti di pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari e attività commerciali. Per supermercati e farmacie, invece, non è necessario averlo. Ciò che ha suscitato più clamore è invece il provvedimento preso dal governo Draghi, in vigore dall'8 gennaio e che avrà validità dal prossimo 15 febbraio. L'ultimo decreto legge anti-Covid prevede infatti l'obbligo vaccinale dai 50 anni in su, vietando a coloro sprovvisti di Super Green Pass l'accesso ai luoghi di lavoro. La trasgressione di questa nuova regola comporta una sanzione di 100 euro, che arriva conseguentemente se dall'1 febbraio in avanti gli over 50 non hanno completato il ciclo vaccinale primario e se non hanno fatto la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi.